si si li vedo si fa la cacca usciali lori stanno rebuttando no questi non vanno a rebuttare ragazzi mi spiace c'è goku fatto eccolo qui dai che è in due uno è morto praticamente e dentro non c'è spuglia è negro ok no non c'è nessuno dentro non c'è spuglia dove c'è la mia spina e non c'è nessuno no vabbè andiamo a rianimare lori prima facciamolo che sia vivo chidi animo lori ma non fatelo non fatelo deve essere in vita lori allora temporeggia temporeggia va da me ok ok arriviamo sarà lori con la pistolina grigia a provarci lo vedo ok lo vedo dai che mi fa tra un po' vieni che dai gli bacca il colpo gli bacca il colpo figlio dai che c'ho due di vita che si sta curando qua sopra dove è da me non ti rimasti solo due uno è uno oh no è solo uno dai perché c'è il colpo figlio è forte e no ma perché scappare i brutti cazzo mi fa ancora nooo perché c'è sto pompa che ti spara indietro fatto non voleva morire questo ti sono che c'è il colpo figlio